io volevo ringraziare il signore e non volevo farlo con tutti voi io credevo che mettermi nelle mani del signore significasse signore ecco sono contenti voglio bene voglio bene a tutti si fermava lì e invece l'ampiezza di questo abbandono Imanus Tuas è arrivato all'estremo e da quello che capisco sto ancora agli inizi di questo estremo ogni giorno sento di poter essere donato al signore oggi ho la forza di farlo domani non lo so ma oggi ce l'ho e ce la voglio mettere tutta perché Dio è amore è un papà che si prende cura dei suoi figli Dio è un papà che si prende cura dei suoi figli grazie a tutti